Sradicare il problema alla radice. Questo potrebbe essere il problema, il titolo. Perché credo che sia capitato un po' a tutti, per esempio, di avere mal di denti e prendere magari un antidolorifico. E credo che nessuno di noi sia così stupido da pensare che una volta passato con l'antidolorifico il dolore sia il problema risolto. Ma che cosa fate? Andate poi dal dentista, giusto? Adesso con la crisi economica che c'è, però insomma ci si lega la corda alla porta e magari si aspetta che arrivi qualcuno ad aprirla di colpo. Il problema è che gli antidolorifici o comunque queste pastiglie non risolvono ovviamente il problema. Così come nessuno di noi, di quelli che hanno l'automobile e che vedono magari accendersi la spia dell'olio, rimangono infastiditi da questa spia e magari vanno dall'elettrauto e chiedono di eliminare la spia. Pensando che così hanno risalto il problema. E poi dopo qualche chilometro si ritrovano con il motore fuso. Dico questo alle sorelle che guidano. Occhio a questi... Quindi voglio dire che quello che succede anche sul piano fisico, sul piano naturale, si ripercuote anche sul piano della nostra anima. Perché è vero che c'è stata per noi una grande liberazione, una grande gioia nel conoscere il Signore Gesù, nel camminare con Lui. Però anche ci rendiamo conto che non tutto è risolto, non tutto è così come un cammino in discesa, ma incontriamo anche nella nostra vita, nella nostra esperienza, nella nostra anima, dei turbamenti, delle ansie, delle agitazioni, dei dolori. Non è che noi pensiamo che magari questi dolori e questi turbamenti se ne possano andare semplicemente magari passando un'ora insieme la domenica. Perché magari voi, alcuni di noi, vengono la domenica e trovano sollievo, ma è un sollievo momentaneo. Oppure proviamo un turbamento e andiamo anche davanti al Signore, preghiamo, ma cosa accade? Che lì per lì questo problema sembra svanire. Perché? Perché il Signore è buono, perché il Signore comunque risponde, perché il Signore comunque si fa sentire spesso e volentieri. E noi magari ci accontentiamo che il nostro stato d'animo migliori, ci sentiamo meglio, e magari pensiamo che quindi il problema sia risolto, ma poi ci accorgiamo che non è così. Ci accorgiamo che usciti di qui o il giorno dopo, due giorni dopo, questo turbamento, questa situazione di agitazione, di ansia, quello che volete voi, si ripresenta. È ancora lì. Allora vuol dire che la pastiglia, l'antidolorifico che abbiamo preso o la domenica o stando qualche minuto in preghiera, ha funzionato lì per lì, ma non ha risolto il problema. Il problema c'è ancora. Non so se sto parlando a qualcuno. Io ho vissuto, anch'io, questa situazione, quindi so di quello di cui sto parlando. e mi rendo anche conto che quello che sto dicendo non è così semplicistico. Non voglio ridurre tutto in maniera molto semplicistica, perché in maniera molto semplice, perché certe, anche depressioni che possono esserci nella nostra anima, certe depressioni, ma va bene, possono essere di origine organica, possono essere di un'origine anche molto profonda, ma alcune di queste possono essere risolte in maniera radicale, profonda. Pensiamo ad esempio a quello che Gesù stesso dice ai discepoli in Giovanni capitolo 14, un esempio, no, di come Gesù interviene nell'anima di quelli che sono vicini a lui. Ebbè, in questo esempio, lui dice, in questo caso, lui dice il vostro cuore, al primo versetto, il vostro cuore non sia turbato, 1. Il vostro cuore non sia turbato, quindi lui aveva avvertito che c'era una situazione di agitazione, perché aveva appena condiviso con loro che da lì a poco se ne sarebbe andato. Ecco, quindi questo turbamento che c'era nel cuore dei discepoli doveva in qualche modo essere risolto, perché se Gesù non avesse parlato, avesse lasciato, come dire, avete lasciato correre, probabilmente questo turbamento si sarebbe anche aggravato. I discepoli non avrebbero più saputo come affrontare questa situazione e questo turbamento non affrontato magari poteva scaturire in una depressione. Come dicevo prima, alcune depressioni sono dovute a pensieri negativi, per esempio, che vengono accolti nella nostra anima, sono pensieri negativi che non vengono risolti e se andiamo a vedere, molto spesso è magari mancanza di fiducia nel Signore, perché sono preoccupato per il futuro, questa preoccupazione non risolta, alla fine può degenerare in una depressione. Mi sento scontento, comincio a vedere tutto nero, mi capite quello che sto dicendo? E Gesù in questa situazione dice, come potete leggere da qui, il vostro cuore non sia torbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ecco, quindi risolve, non vi preoccupate, abbiate fede in Dio e questo sicuramente avrà risollevato questi discepoli. Ecco, quindi dobbiamo anche comprendere che certi miei stati d'animo possono derivare anche da un cammino che io sto facendo non proprio in sintonia magari con la volontà di Dio. presemo ad esempio un altro caso molto semplice da capire perché è molto chiaro e lo troviamo in Prima Samuele al capitolo 16 dove si parla di Saul. Il re Saul, credo che per chi non conosce questa storia, il re Saul era un re un po' disubbidiente che non si comportava proprio in maniera esemplare perché Dio gli parlava attraverso il profeta Samuele diceva come avrebbe dovuto comportarsi ma Saul faceva di testa sua quindi era un po' ribelle. E in questo capitolo 16 al verso 14 ci dice che lo Spirito del Signore si era ritirato da lui perché Saul c'è stato un periodo in cui anche aveva conosciuto la presenza di Dio, lo Spirito di Dio, aveva fatto esperienza di questa potenza e addirittura profetizzava come sapete, no? però per il suo comportamento ad esempio dopo una battaglia il Signore gli aveva ordinato di distruggere perfino gli animali le pecore eccetera del nemico lui però non lo ha fatto perché temeva il popolo perché voleva farsi bello agli occhi del popolo e ha disubbidito alla voce del Signore e dice lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul e uno Spirito cattivo permesso dal Signore lo turbava quindi lui viveva questo turbamento ma cosa cosa gli hanno suggerito per risolvere questo problema? Gli hanno suggerito di chiamare Davide al verso 21 Davide arrivò da Saul e si presentò a lui e Saul dice si affezionò molto e lo fece scudiero gli era piaciuto Davide e al verso 23 quando il cattivo spirito permesso da Dio veniva su Saul quindi Saul si sentiva turbato stava male dice Davide prendeva l'arpa e si metteva a suonare Saul si calmava stava meglio e il cattivo spirito andava via da lui la pastiglia Saul prendeva questo analgesico prendeva questo antidolorifico e lì per lì stava bene però il problema di Saul è che non voleva andare alla radice del problema andiamo al capitolo 18 verso 7 quindi non andando alla radice del problema questo problema si ripresentava e non solo ma peggiorava come adesso vedremo quindi anche noi anch'io l'ho fatto non risolvendo certi problemi profondi mi accontentavo del suono dell'arpa magari magari se vado a questo incontro di preghiera se vado a questo culto come suonano bene l'arpa io lì sto meglio uscivo andavo a casa però il problema ritornava faceva un po' come Saul che cercava il suono dell'arpa quindi abbiamo detto capitolo 18 verso 7 qui c'è una situazione che rivela il problema ma anche un altro un problema profondo di Saul perché c'era stata una battaglia e Davide si era comportato da valoroso e alla fine della battaglia dice il verso 7 le donne danzando si rispondevano a vicenda e dicevano Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi dieci e Saul ne fu molto irritato quindi il problema di Saul era un problema anche di immagine diremo oggi un problema insomma di gelosia di orgoglio un problema profondo che Davide però non affrontava non si voleva non si voleva ravvedere e questo come dicevo aggravava la situazione al capitolo 19 al verso 9 troviamo scritto ancora che uno spirito cattivo permesso dal Signore si impossessò di Saul e gli sedeva in casa sua tenendo in mano una lancia e mentre Davide suonava l'arpa allora Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la sua lancia ma perché? perché Davide aveva stonato suonando l'arpa non credo perché altrimenti dovremmo inchiodare Alessandro Badano quando il problema era un altro che ha cominciato a odiare Davide lo vedeva come un nemico non era più prima l'aveva fatto Scudiero prima era entusiasta di Davide guai a chi toccava Davide dopo poco Davide era diventato un nemico quindi vedete come un problema dell'animo profondo ci ci fa indossare degli occhiali dove per i quali la realtà diventa è modificata non riusciamo più a percepire qual è la vera realtà la realtà delle cose così faceva Saul da da amico Davide era diventato nemico ma Davide schivò il colpo e la lancia da confiscarsi nel muro e Davide fuggì a questo punto Davide non ne poteva più ed è scappato quindi vedete come c'è anche una progressione c'è una progressione se noi non andiamo alla radice del problema ancora nel Vecchio Testamento nel profeta Geremia al capitolo 6 lo vedo Geremia qui sta denunciando i peccati del popolo del popolo di Dio e al capitolo 6 al verso andiamo a vedere cosa dice nel verso 14 essi curano alla leggera la piaga del mio popolo dicono pace pace mentre pace non c'è e poi al un po' più avanti al verso 16 così dice il Signore fermatevi sulla via e guardate domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa voi troverete riposo alle anime vostre quindi sta parlando a un popolo che è comunque travagliato ribelle ma vive un conflitto interiore perché se usa queste parole vuol dire che comunque c'era un turbamento nell'anima di questo popolo e questo popolo aveva bisogno di fermarsi allora è inutile che noi andiamo avanti che tu vai avanti cercando ogni tanto il suono dell'arpa perché appunto questo suono non se lì per lì ti dà del sollievo però non risolve il problema quello che il Signore ci sta dicendo dice fermati considera stai ad ascoltare quello che io voglio dire e stavo al verso 16 dice e poi cammina per questa strada che io ti dico di percorrere non percorrere la tua via non intestardire non nascondere la testa sotto la sabbia ma ascolta quello che io ti voglio dire perché io ti voglio parlare voglio portarti sui sentieri buoni sulla strada buona e così dice tu troverai riposo finalmente tu troverai riposo non cercare di fuggire a quella che è invece la tua di responsabilità come dicevo prima il nostro turbamento può derivare da molte cose ma io sto parlando anche di un problema di obbedienza poi alla fine la parola obbedienza deriva dal latino che ob udire che significa ascoltare l'ubbedienza è ascolto ma non l'ascolto distratto come accade in alcune famiglie chiaramente in poche famiglie dove magari la moglie parla e il marito è assorto nei suoi pensieri e la moglie dice ma mi stai ascoltando sì sì cosa cosa sta dicendo beh succede in poche sicuramente qui no perché perché si sente o quantomeno oppure non si vuole nemmeno sentire il proverbio non c'è peggiore uditore peggior sordo di chi non vuole sentire ma ubbidire vuol dire ascoltare è un'altra cosa ascoltare vuol dire insomma mettersi lì in ascolto e accettare e poi praticare quello che il Signore vuole dirci è sicuramente di di avere dei momenti di intimità con Lui soprattutto se viviamo una situazione di cui io sto parlando che magari per alcuni non esiste più però si potrebbe ripresentare e potrebbe essere il momento in cui uno si deve fermare e dire Signore dimmi tu cos'è c'è che non va e Lui può dire il tuo cuore non sia turbato abbi fede in me per esempio citando citando quel versetto che abbiamo di cui abbiamo parlato prima però è il momento in cui uno si deve fermare e dire Signore adesso parla tu perché la preghiera sappiamo che è comunicazione comunicare vuol dire parlare ma anche ascoltare come facciamo con i nostri coniugi o almeno ma dovrebbe essere con i nostri coniugi parlare e ascoltare quindi la comunicazione il momento di intimità con Dio proprio quando siamo turbati è importante magari i nostri pensieri sono confusi magari la realtà che vediamo è distorta ricordatevi Saul con Davide la realtà che mi si presenta davanti agli occhi è distorta e quindi non sono perfettamente lucido in questo senso quindi ho bisogno di chiedere di stare di sedermi accanto al Signore dire Signore parla 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 tu lo Spirito Santo viene paragonato spesso e volentieri ad una madre amorevole questo è lo Spirito Santo la madre amorevole che si siede accanto a me e mi vuole parlare mi vuole comunicare quello che sono i suoi pensieri e io posso modificare modificare i miei ma devo essere disposto ad ascoltare anche se magari mi può fare male anche se magari occorre intuisco che devo cambiare degli atteggiamenti che devo perdonare e voglio non voglio dilungarmi voglio soltanto insomma vedere attraverso la parola di Dio soprattutto per esempio nel Salmo 13 Salmo 13 Salmo molto breve dove la prima parte preghiera fiduciosa durante l'afflizione qui dice il titolo di questo Salmo un Salmo di Davide vedete la prima parte i primi tre versetti quattro versetti di questo Salmo sembra un Salmo disperato di un uomo afflitto turbato nel dolore fino a quando Signore mi dimenticherai per sempre fino a fino a quando nasconderai il tuo volto fino a quando avrò l'ansia nell'anima vedete pure Davide aveva l'ansia nell'anima però non prendeva delle pastiglie degli antidolorifici l'affanno nel mio cuore tutto il giorno fino a quando si innalzerà il nemico su di me poi però c'è un cambiamento sorge il sole in questo Salmo al verso 5 quanto a me io confido nella tua bontà il mio cuore gioirà per la tua salvezza io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene alleluia meno male che che questo Salmo non non finisce al verso 4 perché sarebbe stato un Salmo da suicidio ma continua 13 13 c'è sì ma vabbè comunque fidatevi di quello che vi ho detto al verso 5 dice cambia completamente il tono quindi di un uomo che sta avendo una guarigione nel suo cuore quanto a me io confiderò nelle tue vie io avrò fiducia in te quindi un uomo che affronta se lì per lì era schiacciato però davanti a Dio lui affronta il suo stato d'animo cambia quindi in questo senso il versetto il versetto che abbiamo letto prima di Geremia dove diceva tu troverai riposo nella tua anima ci rimanda ovviamente a Matteo 11 28 dove qui è Gesù che praticamente sta dicendo la stessa cosa Matteo 11 28 Matteo 11 sono più veloce del computer venite a me voi tutti che siete affaticati e oppresse e io vi darò riposo dice io io vi darò riposo io vi darò riposo io vi darò riposo io vi darò riposo quindi voi capite che dobbiamo andare a lui prima di tutto poi ci sta anche andare da qualcuno che è più maturo di noi poi ci sta anche leggere dei libri che aiutano ci sta a leggere la parola di Dio io comunque io vi ho spesso e volentieri torno alla sorgente forse vi annoio ma io torno alla sorgente io io dice il Signore io venite a me voi io vi darò riposo perché voi potete imparare da me dice ancora il Signore io vi istruirò io vi dirò vi aiuterò a dipanare a sciogliere i nodi che sono nella vostra anima perché il nostro cuore è un mare è un oceano chi lo conosce solamente lo Spirito di Dio può come una madre amorevole venire accanto a noi e cominciare a sciogliere perché se no i nostri pensieri cominciano come un turbine a girare alla fine siamo ancora più confusi io dice il Signore vieni nella tranquillità fermati stai con me parliamo apriti non sai cosa dire apriti dai sfogo ai tuoi sentimenti parla male anche di me litighiamo lo dice la scrittura venite litighiamo questo è il Signore ma lo scopo qual è? è quello di liberarci di rompere le catene di sciogliere i nodi questo è lo scopo dello Spirito Santo altrimenti che ci stiamo a fare quando noi viviamo nella pace profonda allora siamo comunicativi possiamo trasmettere trasmettere il Vangelo che è potenza di Dio non sono chiacchiere potenza di Dio e concludo con Colossesi 3 una delle ultime lettere dell'Apostolo Paolo Colossesi al capitolo 3 Colossesi nel Nuovo Testamento mi pare Colossesi al capitolo 3 verso 12 che dice guardate qui state attenti solo pochi minuti pochi istanti dove qui l'Apostolo Paolo usa questa questa immagine dello spogliarsi delle vestirsi di Cristo vestitevi dunque come eletti di Dio siamo eletti siamo stati eletti è una delle benedizioni che Dio ci ha dato gratuitamente di essere eletti di essere stati adottati come Suoi figli mi piace molto devo averlo letto da qualche parte che un figlio nasce si desidera e quindi ma l'adozione è ancora di più perché vuol dire che veramente Dio che ci ha adottati ci voleva e un figlio può nascere così ma adottati vuol dire che proprio Dio vuole avere a che fare con noi noi siamo stati adottati va bene dunque come vestitevi vestitevi come eletti di Dio santi ed amati di sentimenti di misericordia di benevolenza di umiltà di mansitudine di pazienza sopportandovi gli uni gli altri perdonandovi sui uno e i cadolesi degli altri come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi e al di sopra di tutte e cose vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti la conclusione di tutto questo elenco io lo trovo meraviglioso perché lì c'è tutto quello che serve per vivere una vita in pace non solo con Dio ma in pace anche tra di noi dove sia una Chiesa che testimonia nei fatti l'amore di Dio la presenza di Dio lo trovo bellissimo proviamo a leggerlo un momento al contrario nel senso non partendo dal 15 andare in su ma rovesciando il significato delle parole vestitevi dunque non dice vestitevi o proviamo invece a vestirci anziché di sentimenti di misericordia il contrario della misericordia che cos'è? che io non ho misericordia cioè che cosa fa? giudizio per esempio se io mi vesto di uno spirito di giudizio che sono pronto a puntare il dito pronto a giudicare no? la pace di Cristo può mai regnare nel mio cuore ovviamente no sto chiaro che sto male anziché essere di benevolenza cattiveria pensare male subito a pensare in maniera maliziosa di umiltà se invece di umiltà sono orgoglioso voglio sempre io al centro mettermi sempre in mostra cose di questo genere no? mansuetudine uno che il contrario della mansuetudine è uno che si addira facilmente è uno che reagisce reattivo pazienza impaziente anche nelle prove no? nelle prove è difficile che riesca a sopportare chi mi sta attorno che mi sta vicino le situazioni momento di difficoltà di prova subito scatta sbuffa eccetera sopportandovi gli uni gli altri quindi la capacità invece di non io non sopporto più niente basta non ce la faccio più e dice poi anche se uno che dolersi di un altro come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi mancanza di perdono mancanza di perdono come possiamo pretendere che la pace di Cristo possa regnare nel nostro cuore se la via che stiamo percorrendo si discosta da quella che invece il Signore allora quando io mi avvicino a Dio perché sono turbato perché c'è un problema un dolore alle volte noi facciamo presto a diagnosticare questo male dipende da questa situazione va bene ok ho perso il lavoro questa cosa mi ang... cioè il problema è chiaro è lì il problema lì devo risolverlo in qualche modo altri problemi sono più profondi dove neanche noi magari riusciamo a capire cosa sta accadendo e lì andiamo al Signore diciamo allora parliamo un attimo vediamo un po' se i miei come sono mettiamo a posto un po' i miei sentimenti c'è misericordia c'è perdono c'è sopportazione c'è pazienza c'è mansuetudine sono incamminato in questa non siamo ancora arrivati alla perfezione ma in me c'è il desiderio c'è la volontà c'è di camminare in questa in questa direzione poi è chiaro che possiamo trovarci mancanti Signore sono impaziente sì lo so figlio mio figlia mia sei impaziente ma lavoriamo lavoriamoci lavoriamoci ma Signore abbi pietà mi rendo conto che sono impaziente mi rendo conto che questo è il mio problema ok preghiamo stiamo stiamo lì il Signore risolverà perché Dio è risorto è vivente giusto è vivo è con noi sta con noi vuole risolvere il tuo problema o no vuole risolverlo vuole però è importante che che giochiamo a carte scoperte con il Signore che non camuffiamo che non nascondiamo che non chiamiamo il problema se è un problema di ubbidienza che lo chiamiamo in un altro modo che diamo colpa alla situazione a mia moglie a mio marito alle circostanze ma che davanti a Dio possiamo avere la luce di Dio che ci fa capire che ci aiuta a vedere veramente qual è il problema è lì davanti a Dio magari ci vorrà anche una settimana un mese non importa però è lì e allora lì Dio lo sta lavorando lavorerà e porterà a compimento avremo la vittoria sulla mansuetudine avremo la vittoria sul sul rancore amèn ci vogliamo ci vogliamo credere vogliamo ascoltare Dio ci alziamo in piedi andiamo ascoltare il Signore so che il buon il buon pastore il buon Daniele vi stimola molto e in questo senso anche l'impegno che che noi ci assumiamo come credenti di di pregare no preghiera la preghiera fondamento fondamento della della nostra vita della vita cristiana ma non mi stancherò mai e penso anche il pastore Daniele a dire prima di tutto a noi stessi e a voi ascoltiamo ascoltiamo Dio stiamo stiamo con Dio stiamo vicini lasciamo che lo Spirito faccia luce faccia chiarezza permettiamogli permettiamoli di entrare vieni Spirito Santo invitiamo lo Spirito Santo comunichiamo con lo Spirito Santo diamoli a lui la guida il timone signore sto sbagliando c'è qualcosa che non va nella mia vita aiutami fammi capire so che c'è qualcosa che non va posso intuire rivela così il rapporto che noi sviluppiamo con lo Spirito Santo è di questo tipo insomma non è una persona non non è ai nostri ordini il Signore ma ormai viceversa siamo noi i Suoi ascoltiamo Signore noi ancora questa sera avvicinandoci anche questa mattina avvicinandoci al pane e al vino assumiamo ancora solennemente Signore l'impegno ad avere comunione ad avere comunicazione con Te a lasciare che il mio cuore possa essere invaso possa essere pervaso della Tua presenza voglio credere e continuare a credere che Tu Signore non ce l'hai con me voglio voglio continuare a credere che Tu sei come una madre amorevole voglio continuare a credere che Tu Signore hai messo il Tuo braccio intorno alle mie spalle voglio continuare a credere che il Tuo impegno così come c'è stato ancora prima il Tuo impegno c'è stato quando noi ancora camminavamo lontani da Te il Tuo impegno è stato per me per noi così continuerai a lavorare nella mia vita continuerai a lavorare nella nostra vita in modo tale che le Tue perfezioni possano contagiarmi possano contagiare il mio cuore perché da lì dal mio cuore che provengono delle sorgenti della vita grazie Signore grazie Signore voglio essere Tuo amico voglio che Tu sei il mio amico so che lo sei Signore quindi ancora questa mattina lo voglio sottolineare prendendo questo pane prendendo questo calice arrendendomi a Te Signore arrendendomi alla Tua volontà alla Tua parola la resa è senza condizioni Signore voglio continuare a camminare nelle Tue vie alle volte è dura è difficile Tu lo sai ma per quanto sta a me io voglio continuare a camminare nelle Tue vie Amen Amen Amen